Oggi studiamo il suono di Time, sempre tratto da Dark Side of the Moon, un suono che si sviluppa sulle pentatoniche di Fa diesis minore e poi sulla scala maggiore del Re. Il suono che andiamo a costruire è un tipico suono gilmuriano, con molta compressione, un buon overdrive, un equalizzatore grafico settato sui medio-alti perché il suono è un pochino più acido, un delay a 800 millisecondi, un reverbero e una punta in più di chorus del normale per rendere il suono più avvolgente. Utilizzerò il pick-up della strato al ponte poiché ho bisogno di una sonorità molto più aperta, quasi acida. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.